ciao a tutti e bentornati nel canale oggi faccio un video gemello con la mia amica nadia beauty and co in questo video associamo alcuni dei nostri profumi a una donna rock rockettara dalla forte personalità ovviamente tutto il riferito ai nostri gusti anzi io vi invito a nei commenti a dire quale il profumo secondo voi ideale per una donna rock allora io comincio comincio dal primo profumo allora ho pensato che sarebbe ideale un profumo a una donna rock questo profumo equivalente di shogun si ispira al profumo di montal intense caffè questo profumo molto intenso e forte lo vedo proprio giusto per una donna rock da una forte personalità buonissimo questo profumo sì quindi il profumo di shogun ispirato a montal caffè mi dispiace che non oro l'originale associerei anche un profumo maschile a una donna rock perché la donna rock ama ama i profumi maschili in questo caso purtroppo è sempre un profumo ispirato ed è un profumo di imperia numero 3 e questo profumo si ispira a creed aventus lo vedo proprio ottimo per una donna rock e un profumo fresco un profumo estivo un profumo da uomo da uomo però una donna rock e tara penso che felicemente indosserebbe questo profumo di creed molto buono una scoperta fantastica ragazzi fresco ma sempre da una grande personalità anche questo purtroppo ho un profumo equivalente perché un profumo molto molto costoso però una donna rock e tara dei nostri tempi dei nostri tempi mentre questo qui intense caffè per una donna più elegante più elegante creed proprio una donna rock e tara si ma all'avanguardia degli anni 2020 poi invece associerei a una donna più metallara più dark più rock e dark questo profumo di dangeros lo so vi ho fatto una testa tanto 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 grande con questo profumo però lo trovo proprio proprio ideale per una personalità rock anche rock anche rock più metallaro più metallico io non è che sono un'esperta di musica rock perché non è che sono stata una donna rock e tara nella vita però mi voglio mettere in gioco e sforzarmi e sforzarmi esprimere le meningi e pensare questo lo trovo molto ideale per una donna più rock metallaro ragazzi è fantastico io ho messo quattro profumi perché per me era molto difficile scegliere questo tipo di profumo per una donna rock perché per me è una novità poi l'ultimo che metterò è proprio quel profumo che è stato creato appositivamente per una donna rock perché è black perfetto quel profumo che si ispira al giubbotto questo è proprio qualcosa di fantastico qui è più dolce e più c'è la marena che gli da una dolcezza è buonissimo però è un profumo dove ha una base di cuoio buonissimo questo è proprio il profumo ispirato al giubbotto di pelle nero fantastico mamma quanto amo questo profumo questi sono i miei profumi che secondo me si potrebbero associare a una donna molto rock che dire scrivete nei commenti il vostro profumo il vostro profumo quello che secondo voi lo vedete bene indosso a una donna molto rock e nel frattempo andiamo a vedere cosa dice Nadia sì andiamo di corsa